DORMITI Cosa? Dimentico sempre che non avete il potere della luce Ok Come possiamo fare? Sei sicura? La torre dice che da questo momento potete usare le Hyperbeast Le Hyperbeast? Non so cosa siano, ma ne ipervoglio subito una Le Hyperbeast Piron, Gorok, Cryos e Vrago vi porteranno tutti quanti su Gorm Quando volete farle apparire potete chiamarle con i vostri bracciali, così Combatti bestia! Piron! Garok! Cryos! Rago! Wow! Incredibile! Sono enormi! Facciamo una gara! L'ultimo che arriva è un lumacone! Dai! È molto più difficile di quanto pensassi Guardatemi! Ci sono riuscito! Aoki, questa è stata davvero un'idea stupida! Non vogliono obbedirci! Ehi, non incolpare me, parla con la torre Sì, è sempre colpa della torre E poi avevi detto che sei tu la custode, perciò... Non alzare la voce o peggiorerai le cose Quanto vorrei la pace del regno della roccia! Aspetta, ci sono! Cosa fai? Le Hyperbeats sono qui per aiutarci nelle nostre missioni, giusto? Quindi saltiamo su tutti insieme e loro ci aiuteranno, giusto? Giusto! Esatto! Forse! Uno, due e tre! Andiamo! Sì! Attenzione! Le bestie stanno per... Iper saltare! Dormiti raggiungibili Chi mi fermerà? The land is back The legend is back Dormiti! Dormiti!